Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Buongiorno. No, no! Voglio andare! Li ci sono adesso. Si trò l'aivi no. Quこと, 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 qu. Qu'è 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 qu'è? Qu'è il pò? Grazie a tutti 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 Grazie a tutti